Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace del Signore sia con tutti voi. Lo Spirito del Signore inonde la vostra vita, la ricolmi dalla sua presenza e vi arricchischi di ogni dono di grazia e di ogni carisma necessario per vivere santamente nella libertà dei figli di Dio, compiendo l'opera del Signore. Lo Spirito Santo, abbiamo visto nelle ultime conversazioni, è l'eredità che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa e la promessa fatta da Dio al suo popolo, al popolo eletto, era proprio quello di donare lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo? Quando un genitore dona il suo amore ai figli, da poi anche tutto il resto connesso, a questa relazione di amore. Più è grande e intenso l'amore del genitore e anche più sono pieni i doni che egli elargisce ai propri figli. Nel dono dello Spirito Santo Dio dona se stesso. Dona tutto il suo amore, tutta la sua grazia, tutta la sua ricchezza. E i santi hanno compreso pienamente questa realtà stupenda e l'hanno vissuta. Nel dono dello Spirito Santo ci sono tutti i carismi di Dio, ci sono tutte le promesse di Dio, anche tutti i doni. Lo Spirito Santo è appunto la preghiera, è il dono, la presenza e la relazione di Dio con noi che ci comunica a se stesso, ci fa partecipi della sua vita divina. Come ci ricorda anche San Pietro, quando ci dice con questi beni siete diventati partecipi della sua natura divina. Dicevamo che i santi hanno percepito questa ricchezza, questa bellezza e l'hanno vissuta. Sentite alcune preghiere che possiamo prendere dagli scritti dei santi. Sentite Santa Caterina da Siene, come si esprime, «O amore, dolce e carità inestimabile, tu sei ministro e servitore delle tue vilissime creature, o amore, o fuoco d'amore!» E la Santa continua, «Poiché dunque lo Spirito Santo è il forte vestimento, che resiste ad ogni colpo, ed è vestito di fuoco contro il freddo, è cibo contro il morire di fame, è letto contro la stanchezza. Ti prego, figliolo, in Cristo Gesù, di portarlo indosso virilmente, cioè rivestiti dello Spirito, inebriati dello Spirito, vivi secondo lo Spirito. Egli è così dolce compagno dell'anima che sarà Lui, giunti che saremo, al termine della vita, a farci riposare nel letto e mare pacifico della divina essenza, dove riceveremo l'eterna visione di Dio». E la Santa continua, «O Spirito Santo, vieni nel mio cuore, e per la tua potenza attiralo a te». «Dio vero, concedimi carità con timore, custodiscimi da ogni malpensiero, riscaldami e infiammami del tuo amore, sì che ogni pena mi sembri leggera. Santo mio Padre, dolce mio Signore, aiutami in ogni bisogno. Cristo amore, Cristo amore. Amen». Vedete, fratelli, con quanta passione i Santi hanno invocato lo Spirito Santo e si sono innamorati dello Spirito Santo, anche se non hanno sviluppato una teologia ben distesa. Bene, essi però sono vissuti secondo lo Spirito Santo, hanno amato lo Spirito Santo. E la Chiesa si è servita lungo i secoli anche di preghiere elevate allo Spirito Santo. Prendiamo dalla liturgia celeste sovrano, dice una preghiera bisantina, «Spirito consolatore, Spirito di verità, che sei presente ovunque e tutto riempi, scrigno di ogni bene e datore di vita, vieni abita in noi, purificaci da ogni immacchia, e tu che sei buono, salva le nostre anime. Amen». E l'anafora dei dodici apostoli aggiunge, «Concedi, Signore, a noi i doni dello Spirito Santo e rendici degni di accostarci al Santo dei Santi, con cuore puro e con la coscienza irreprensibile». E nella liturgia armena sentiamo, «O Spirito Santo, vero Dio, tu sei disceso sugli apostoli nel cenacolo, come una meravigliosa pioggia di fuoco fecondo, spande su di noi i doni della tua sapienza». E nell'accingersi a leggere la parola di Dio San Serapione pregava dicendo, «Ti chiedo di mandare, o Padre, il tuo Santo Spirito nelle nostre anime e di farci comprendere le scritture da Lui ispirate, concedici di interpretarle con purezza e in maniera degna, perché tutti i fedeli qui radunati ne tragano profitto». La Chiesa poi, dunque i secoli, fratelli, si è servito di due stupendi inni allo Spirito Santo. Il primo è quello che noi chiamiamo il «Veni Creator». Sono state fatte delle belle traduzioni in italiana che però non si abbinano bene alla melodia gregoriana che anticamente accompagnava la versione latina. Ci fermiamo però solo al testo, che è stupendo. «Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'indelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. luce d'eterna sapienza, sveleci di grande mistero, di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Guardate quale ricchezza, fratelli, in questo stupendo inno che noi abbiamo dal tardo Medioevo e che ha animato sempre la Chiesa e ogni volta che la Chiesa si raduna per un incontro, per una decisione, invoca lo Spirito Santo e più delle volte usa questo inno che vogliamo commentare brevissimamente. Vieni o Spirito Creatore. Dice l'appunto della scrittura che Dio ha creato il mondo con lo Spirito Santo. In principio Dio creò il cielo e la terra, la terra era in forme e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E quando Dio parla, lo Spirito dà forma. Il caos diventa cosmo, cioè ordine e bellezza. Ecco lo Spirito Santo è il formatore di tutto. Qualche volta fermiamoci, fratelli, a contemplare creato, ma alla luce di questo amore immenso che è Dio stesso che ha formato ogni cosa. E noi stessi siamo opera delle mani di Dio, cioè opera di questo amore, anche se abbiamo delle tristezze, se abbiamo delle prove in questa vita. Guardiamole tutte alla luce di questo amore, immergiamole in questo amore. Allora tutto si rinnova, visita le nostre menti, riempi della tua grazia, della tua benevolenza i cuori che tu hai creato, visita le nostre menti che sono purtroppo tante volte annebbiate dal peccato e dai disordini. Ecco lo Spirito Santo quando entra in noi fratelli e rimette luce, ci fa aprire il cuore a ciò che Dio ha fatto e prosegue l'inno dicendo, o dolce Consolatore. Perché Consolatore? Perché quando lo Spirito inebri ha l'anima, l'anima è sazia. Ogni pena scompare. Le stesse sofferenze, la stessa morte, accettata, affrontata con lo Spirito Santo, non fa danno. Non era triste, anzi, come abbiamo visto in tanti santi, Santa Teresa Davila ogni ora che passava diceva, si avvicina l'incontro col Padre. Non vedeva la fine di questa vita, ma l'immersione nell'eternità, nella bellezza di quel mondo che appartiene a Dio, quindi dolce Consolatore, e questo dice dono del Padre Altissimo, e come acqua viva che inebria, ristora, fuoco che arde e non consuma, amore che ti inonda, santo crisma dell'anima e crisma dell'olio che segna la nostra consacrazione a Dio. Lo Spirito Santo ci consacra a Dio. Dito della mano di Dio. Quando Gesù cacciava i demoni diceva, se io caccio i demoni col dito di Dio, cioè con lo Spirito Santo, perché un altro passo è l'Evangelista San Luca, riporta lo stesso evento con un'espressione diversa, se io caccio i demoni col dito di Dio, come per dire lo Spirito Santo è chiamato anche dito della mano di Dio, perché Dio opera con lo suo Spirito, non opera in altri modi. Se Dio si china su di te, fratello, non ti si avvicina col giudizio, no, no, Dio è solo misericordia, Dio è solo amore, amore che guarisce, amore che purifica, che corregge, che è verità e se sei nell'errore ti fa vedere l'errore, ma sempre in vista della tua salvezza non c'è mai nello Spirito Santo un'ombra di cattiveria, di irritazione, di nervosismo, dito della mano di Dio. Quindi, promesse dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni. Quali sette doni? Sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore del Signore. Irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Lo Spirito si rivela con la parola. E noi vediamo nella scrittura, quando la parola ci penetra l'anima, si manifesta lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce. Quante volte, fratelli, mi sento dire da persone che ascoltando la parola hanno sentito dei dolori sparire o addirittura delle infermionalità andarsene, semplicemente ascoltando la proclamazione della parola. Perché lo Spirito che è invisibile rivela se stesso attraverso la proclamazione della parola. Noi abbiamo visto altre volte, come noi uomini conosciamo tre tipi di parole. La parola delle chiacchiere, che sono cose più sensuali, che vengono dalle passioni. La parola che è espressione del concetto, dell'idea. E quindi quell'idea viene trasmessa attraverso la parola. Ma poi abbiamo una parola che ci viene dall'anima, dallo Spirito, che è espressione del nostro stato d'animo. E allora lì c'è una presenza, c'è una forza. Dio non conosce chiacchiere, né si ferma alle idee. Dio parla con lo Spirito, cioè con un genitore, che vede il bambino, se l'abbraccia e se lo stringe forte al cuore. Quella è la sua parola. Quel gesto esprime più di ogni altro discorso. Così la parola di Dio è rivelazione di Dio. Quindi quando noi l'ascoltiamo, prodighiamoci per accoglierla con amore. Sii luce all'intelletto. La nostra mente, fratelli, illuminata dallo Spirito Santo, vede la realtà in ogni modo. In un certo modo, San Francesco, illuminato dallo Spirito Santo, vedeva gli amici di Dio anche nel lupo, San Serafini di Sarof, quando le zanzare lo beccavano, diceva, nutritevi creature di Dio. Non conosceva i nemici e i serpenti li portavano da mangiare nel suo eremo. Era pacificato. Nello Spirito Santo ha detto, la natura che attorno a lui si riconciliava e gli diventava amica, si luce all'intelletto, guardate quale grande dono, fiamma ardente nel cuore. Quando Gesù parlava ai discepoli di Emmaus, il loro cuore ardeva. Sana le nostre ferite. Ciò avviene realmente. Se tu in questo momento hai una pena, prova ad aprirti a questa presenza dello Spirito Santo. proprio a pensare con la mente e apre anche il cuore al fatto che Dio ti sta amando con amore, con tenerezza e ti accorgi come quella pena scompare da te, non domani, adesso, immediatamente, nel momento in cui ti fai toccare dallo Spirito. Perciò sana le nostre ferite. E lo Spirito Santo non solo sana le ferite del cuore e dell'anima, ma anche le ferite fisiche. Quante malattie scompagno, fratelli, quando noi ci apriamo allo Spirito Santo, quante disturbi, quanti malesseri, anche a volte di infermità, paralisi che scompagno, tumori che se ne vanno. E lo Spirito Santo che opera. Sarebbe diversa la vita vissuta nello Spirito Santo, ma non deve essere utopia, deve essere la nostra ricerca, come spendiamo tanto tempo e denaro per accumulare ricchezze e ne spendiamo tanto per divertirci, per appagare i nostri capricci, perché non spendiamo altrettanto per ricercare il dono dei doni che dura in eterno, lo Spirito Santo. Quindi sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Dio ci consola col suo amore. Difendici dal nemico. Rega in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Difendici dal nemico. Dove c'è lo Spirito Santo, Satana non entra. Quando due sposi vivono il loro matrimonio, accogliendosi l'un l'altro, come figli di Dio, e ciascuno vive per il bene dell'altro nel nome di Dio, difficilmente Satana entra nella famiglia. C'è una potenza, perché appunto lo Spirito Santo è la verità, è la realtà, e le tenebre di Satana non possono convivere con lo Spirito Santo. Rega in dono la pace, la pace e la pienezza del bene. La tua guida invincibile non c'è seduzione, non c'è essere inganno quando siamo guidati dallo Spirito. Ci preservi da ogni male. Luce d'eterna sapienza. Luce d'eterna sapienza. Lo Spirito Santo è la sapienza di Dio. E la sapienza è la capacità, il dono, che ci permette di affrontare la vita col gusto di Dio, col sapore di Dio. Sapere, avere sapore. Col sapore di Dio. Col gusto di Dio. Luce, quindi, di eterna sapienza. La vita deve avere il gusto che viene da Dio. Dobbiamo prendere le cose come Dio le assume. Svelaci i grandi misteri di Dio Padre, e del Figlio, e di Gesù Cristo, uniti in un suo amore, cioè il mistero della Trinità. Dio è il Padre che si rivela, cioè il Figlio, e si comunica a noi con lo Spirito del suo amore. E questa grande realtà, fratelli, penetra in le nostre anime. E noi preghiamo costantemente lo Spirito Santo. Chiediamogli che ci riempia la vita, che sia Lui a guidare la nostra esistenza. E vogliamo concludere questa conversazione con una preghiera allo Spirito Santo, o Spirito di Dio, che con la Tua luce distingue la verità dall'errore. Aiutaci a discernere il vero. Dissipa le nostre illusioni, e mostraci la realtà. Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo dell'anima nostra. E aiutaci a distinguerlo da ogni altra voce. Mostraci la volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita, in modo che possiamo prendere le giuste decisioni. Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti che ci rivolge, gli insegnamenti che vuole inculcarci. Rendici atti a percepire i Tuoi suggerimenti, per non perdere nessuna delle Tue ispirazioni. Concedici quella perspicacia soprannaturale, che ci faccia scoprire le esigenze della carità, e comprendere tutto ciò che richiede un amore generoso. Ma soprattutto eleva il nostro sguardo là, dove Egli si rende presente, ovunque la Sua azione ci raggiunge e ci tocca. Per Cristo nostro Signore. Amen. E che lo Spirito Santo, fratelli, ci istruisca, ci insegna a pregare, sia Lui stesso a pregare in noi. Come dice San Giuda, pregate secondo lo Spirito. E che lo Spirito Santo, fratelli, inondi la vostra vita e vi rendi in tutto conformi all'immagine del Figlio del Signore. E che il Signore sia con voi. Amen.